Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? Loro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che di portale c'è. E che mi piace tanto 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 tanto... Tanto, 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 oh! Potessi un giorno vedere La poesia al potere Vivo nelle piave, nelle storie agli etochine Seguo le parole, inciampo sulle rime Parlo con le piante, corro con le nuvole Con gli occhi della luna vedo il mondo che verrà Sveglio nella notte nuda, seguo il filo di una stella Camminando contro vento, cerco un'isola di pace Potessi un giorno vedere Potere la poesia La poesia al potere Potere la poesia Potessi un giorno vedere Potere la poesia La poesia al potere La finestra si fa foglia nel palazzo di Corallo Vedo un cielo di colori che colora la città Potessi un giorno vedere Potere la poesia La poesia al potere Potere la poesia Potessi un giorno vedere Potere la poesia La poesia al potere Credo nelle fate Negli spiriti del bosco In quello che non credi In ciò che non conosco Ascolto il mio silenzio Sento il suono dei profumi Al sole del mattino Vedo il mondo che verrà La gioia La speranza La vita Che stupisce La musica Ribelle Nei case Di Gantin Il fuoco La dolcezza Il pensiero La furia Il viaggio Senza meta Il sogno La realtà Potessi un giorno vedere La poesia al potere Potessi un giorno vedere La poesia al potere Potessi un giorno vedere La poesia al potere Potessi un giorno vedere Potessi un giorno vedere La poesia al potere Potessi un giorno vedere Dunque io sono molto soddisfatta di questa mattinata di confronto con il forum delle associazioni in un clima che dimostra come i ragazzi italiani sappiano confrontarsi delle volte al di là di certi steccati che invece sono molto sentiti e molto forti nella politica spero che sia solamente uno dei tanti momenti che avremo per confrontarci con quella che io chiamo la meglio gioventù cioè quella realtà assolutamente maggioritaria dei giovani italiani che non è fatta di bulli e di aspiranti veline ma è fatta di gente che ogni giorno si impegna per costruire una realtà migliore spero che ci saranno altre di queste occasioni e che riusciremo ad avviare un confronto profiguo a 360 gradi simpatissima che stai facendo? lavoro che cosa cerchi? l'oro hai uno scopo? credo dove ti trovi? in Italia e come vivi? suono di dove sei? toscano qual è il tuo aspetto? meno sereno di un tempo ma non per questo stanco a cosa pensi? al deserto qual è il tuo impegno? immenso ed il tuo tempo? denso è il tuo impegno? ti trovi? chi no? e il tuo impegno? a questo tema? oppure